a vedere i miei fumetti più grandi ok Samuel Salvetti perché mi ha fatto un regalino un regalo grandissimo grazie mille salve di questo un fumetto e questi qua sono le cartacce e questo qua questi qua sono i miei fumetti più grossi ci ho messo settimane o mesi anche ecco questo qua ci ho messo qualche settimana ma anche qualche giorno 500 pagine in tutto fumetto questo qua ci ho messo vari mesi due o tre un paio o tre e mille pagine in tutto fumetto what the fuck farò un po' più grosso della Bibbia cioè io mi dico farò un po' più grosso della Bibbia comunque vi devo dire una cosa ecco perché il mio papà perché ho cambiato la maglietta perché il mio papà quando stavo guardando il video precedente quello del quello che era in Redcat che spacchettava il regalo che mi ha fatto Samuel infatti quello quello là il fumetto ecco lui me oggi l'ha fatto mentre stavo guardando lì perché gli veniva da lì ridere aveva latte in bocca e allora quando ha riso ha sparato come un fucile a pompa ma davvero ho visto una rosa di pallini di pallini di latte e quindi mi sono cambiato la maglietta porca miseria madonna santa poi puoi uscire devo andare a Vioreggio devo andare in bicicletta madonna santa ce l'ho da fare tantissime cose poi devo andare al tennis cioè dico con la mia mamma e quindi vabbè poi vi devo dire una cosa perché io faccio tutti i video nel nel coso di youtube della mia mamma Stefania May no il oddio come si chiama vabbè quello su youtube il canale ecco allora io sposterò tutti i miei video su il canale mio da Adokai link in descrizione comunque spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel pollicione su e alla prossima ciao